Confermato la presenza di Katsunori Yamauchi che è il creatore di Gran Turismo, uno dei videogiochi più amati e venduti del mondo. Abbiamo Frank Shaw, Johnny Ryan dagli Stati Uniti, Lea Mureviek, Rupert & Moulot dalla Francia, Albert Montez dalla Spagna e poi un parterre di autori italiani che è sempre ricchissimo, con Zero Calcare, Tito Faraci, Tanino Liberatore e tantissimi altri. Alla mostra d'oltremare ritorna il Comic Con, festival di cultura pop specializzato in fumetti, giochi e videogiochi e serie tv. Dal 22 al 25 aprile oltre ai 500 eventi e 300 ospiti animeranno la rassegna con uno speciale Asian Village dedicato ai manga e alla cultura dell'estremo oriente. Oggi poco più di 12.000 giornalieri venduti, sabato, domenica e lunedì sta per finire, quindi insomma abbiamo una proiezione di più di 100.000 visitatori nei quattro giorni. Il ruolo di magister di questa edizione è affidato al fumettista e cantante Davide Toffolo che con mostri e normali espone anche una selezione dei propri disegni. Nell'area del lago di Fasilides ci saranno rievocazioni storiche e battaglie fra cavalieri, vampiri e morti viventi. C'è la presentazione della scena perfetta, la presentazione con Amazon della serie Bang Bang Baby e un programma di proiezioni anteprime sempre ricchissimo. Per esempio c'è il cast di Mare Fuori che è tanto atteso dal nostro pubblico. Molte le collaborazioni e gli sponsor di questa edizione, anche il Comune di Napoli, ha assegnato il patrocinio all'evento. Siamo felici che Comicon possa tornare qui a Napoli. Dopo due anni ritorna ed è un momento importante per i ragazzi e le ragazze della nostra città, per tanti giovani che acquisiscono il nuovo momento di socialità, che possono stare insieme non solo incontrando loro beniamini, eroi, quelle che sono le loro passioni, ma potendo avere anche delle opportunità per sviluppare delle idee e magari fare imprese in questo settore. Quindi un grazie a Comicon, augurandoci che possa essere rafforzata questa esperienza per loro più che ventennale e ci auguriamo di poterli accompagnare. Il programma completo su www.comicon.it